Una battuta su quel selfie che è stato criticato da qualcuno? Benissimo, mi piace questa domanda perché è opportuna. Allora ho letto, o qualche amico mi ha fatto leggere qualche esternazione per quanto riguarda il SEF, ma qualche esternazione di qualche consigliere comunale. È singolare che un consigliere comunale che si presenta alle elezioni comunali di Aversa in Forza Italia poi presenta, mi pare, la moglie nel PD a Napoli. Nel PD a Napoli ed è singolare che un consigliere comunale che rappresenta in Consiglio Comunale la più forte forza del centro-destra, Forza Italia, poi vada a votare assieme al PD e al Movimento 5 Stelle. È una stranezza unica in Italia. Ma di quale consigliere parliamo? Che un consigliere comunale che rappresenta Forza Italia. E questa stranezza non me lo ricordo. La cosa strana è Gian Paolo dell'Ovicario, ovviamente lo conosco bene ed è un amico, però è singolare il suo atteggiamento. Parla di coerenza, di trasversalismo, parla di tante altre cose. Ma giustificasse questi suoi atteggiamenti invece di pensare agli atteggiamenti del sindaco. Il sindaco fa i selfie con tutti, con tutti quelli che gli chiedono. Non mi nego a nessuno, è una mia debolezza, la confesso. Su questa cosa sono narciso e rimango tardi. Grazie.